e vediamo un po cosa viene fuori qual è la più bella la più bella qual è la miss quale corna quella sulla strada è bianca l'altra c'ha le corna quelle con la corna cosa sono un'altra qualità non è che sono maschio o femmine se ne vedono già poche in giro adesso vediamo un po se vanno a votare anche loro adesso manca poco ti diamo una scheda in mano e andiamo a votare tanto magari indovinano di più loro ci inverti di noi come lo pagano a me con questo cappello qua che bel cappello no le mie belle troppo grande le ma sono andate dentro le tarme le mangiamo i grilli ma da dove che vieni da rassa da rassa ma le portate qua con camion no 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 sono qui in cassino lì vicino al barucco adesso ho ancora 15 giorni poi vado a me a partire perchè adesso è difficile viaggiare una volta si viaggiava facile adesso è più difficile muoversi una volta andavo da qui in un'ora qui andavo ad andare vicino al sedio si dormiva la mattina tornava ad andare ma adesso è qui viaggiava per una strada cambia il mondo ma tanto tanto meglio o in peggio in peggio più si fa progresso e più c'è meno umanità bravo il calcio di voi è meglio una volta mi ha detto si ma certe robe in peggio il progresso deve essere per l'uomo giusto e mi sembra che per l'uomo non lo rimane bene ma però io vedo che io sono vecchio ma ci sono tante robe cambiate in peggio già il fatto che uno deve stare qui a filmare le capre vuol dire che si è messi male perchè è più niente di vero in giro vedo le capre questo qui è una malattia questo qui è un po' una malattia quale? la mia di fare il pastore si una passione vuol dire bravo la passione è la passione io ho 80 anni qui con 80 anni mille da piccolo così fai questa vita ma non mi dispiace niente sono contento sono dispiace della mia vita non mi piace sempre mangiare o no? e poi è bellissimo per spiegare a fare il formaggio non sono capace non vorrei mai fare più per fare il formaggio riesci a spiegarlo in quattro minuti per il formaggio non tutti non per quanto non sono capace di farlo perchè prima cosa bisogna il caldo giusto la temperatura giusta il sniacallo giusto non è facile ma il latte di capra riesce a venderlo? questo e si perchè fa bene anche ai bambini il latte di capra per i bambini è il miglior latte io ho gelato un po' il mondo l'ospedale maggiore di noara una donna ha ordinato un bambino di dare il latte di capra è venuta la se ne faccio due se posso dai che il latte al clavo ha salvato la bambina perchè è leggero lo so perchè più che il capo dell'ospedale di noara me l'ha detto quella cosa il tumine noi facciamo i tumini sono più ricercati che quello delle mucine e te cosa dici? e te cosa dici? e te cosa dici?